Una protezza dell'attaccante argentino Martin Gonzalez consente alla San Cataldese di accedere al secondo turno di Coppa Italia e di averla meglio contro la rivale che la scorsa stagione ebbe la meglio nel campionato di eccellenza dopo un bel testa a testa, così ieri sul neutro di Licata è andata in scena l'ennesima sfida tra le due compaggini isolane che anche quest'anno si ritroveranno nel torneo di Serie D. Alla fine a sorridere è stata la squadra verde amaranto dal tecnico Rosario Marcenò brava a punire la retroguardia giolese nell'unica disattenzione della gara. Tutto sommato però la partita vista ieri sul sintetico Licatese è stata equilibrata con i padroni di casa del Gela che hanno creato qualcosa in più rispetto agli avversari, una su tutte la traversa piena colpita da Santino Biondo allo scadere del primo tempo. Un Gela che alla fine ha raccolto poco ma che è uscito ugualmente tra gli applausi dei suoi tanti sostenitori giunti nella cittadina grigentina per assistere alla prima gara stagionale della formazione bianco-azzurra. Primi dieci minuti in cui non succede nulla di rilevante. Al quindicesimo ci prova Mincica su calcio di punizione ma Dolenti si distende bene e devia in angolo. La reazione degli ospiti è tutta nel tiro dalla distanza di Calafiore che termina abbondantemente fuori. E' sempre il Gela infatti ad avere le occasioni migliori. Al ventisesimo ci prova il difensore Strumbo ma il colpo di testa a schiacciare del centrale giarese termina alto sulla traversa. Al trentunesimo ancora Mincica ma la sua conclusione in acrobazia termina alta. Al trentaduesimo la squadra del tecnico Marcenò tenta con il tiro a giro di Bruno a sorprendere l'estremo difensore del Gela Seitta ma quest'ultimo sventa in angolo. A tempo quasi scaduto, brivido per la San Cataldese con l'attaccante Santino Biondo che timbra la traversa e si dispera per il mancato vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa calano leggermente e la manovra diventa meno fluida. Al diciassettesimo così arriva la rete dell'argentino Gonzales che tutto solo alla limite dell'aria stoppa di petto la palla mettendo immediatamente la sfera dove Seitta non può nulla. 1-0 San Cataldese e gara in discesa per gli ospiti che potrebbero anche raddoppiare dopo tre minuti ma il colpo sotto di Bruno è troppo debole perché impensirisca la porta giolese. Alla fine uno svarione difensivo dalla retroguardia ospite per poco causa un clamoroso autogol. Finisce così dopo tre minuti di decupero la gara con la San Cataldese che porta a casa la qualificazione e il Gela che adesso tende a rivincere questa volta in campionato. Una Gela che ancora deve trovare la giusta quadratura del cerchio come giusto che sia in questa prima parte della stagione e che attende ancora qualche rinforzo. Prima però sarebbe meglio ritornare a giocare al Presti sperando che lavori sul sintetico dello stadio gelese inizino proprio oggi e che si faccia in tempo per completarli per l'inizio del campionato.